Che c'è Marco? Te l'ho detto e non lo voglio dare il prezzo! 1.500! Non il muro bianco, l'opera, il quadro dell'opera! 1.500 euro da scontare del 90% e ve l'ho portata a casa con 15 euro! Cosa sono 15 euro? Lo puoi avere con un caffè al giorno! Rinuncia a un caffè e ti porti a casa un pezzo di storia romagnola! Te lo portiamo a casa con garanzia di expertise! Vieni qua, vado a vedere alla regia per favore, grazie! Timmelo su! Mettimelo sul riflesso che è lo scuro, grazie! Lui non è inventita e non inquadrare, lui inquadra l'opera! Guarda che meraviglia! Leve! Fai vedere! Guarda, guarda, sei in brassetta! Una stampa perfetta, di qualità! Non vi portiamo a casa le solite cose che vedete in giro! Si può fare una cosetta? Prendi qualche telefonata, regia, grazie! Marco! Marco è minerale! Grazie!